Quindi una volta che il paziente ha capito il suo piano di trattamento, gli è stato spiegato bene, ha capito il coinvolgimento economico nel trattamento, ha capito le modalità di pagamento perché glielo ha spiegate la segretaria, anzi facciamo un inciso sulle modalità di pagamento. Le modalità di pagamento noi diamo per scontato che sia il pagamento ideale sia il rateale, ma non è vero, non è vero per nulla. Nel mio studio il 72-73% dell'incassato viene incassato prima che le cure vengano eseguite. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nelle modalità di pagamento noi dobbiamo offrire al paziente qualsiasi opzione che gli permetta di avere dei vantaggi anche nel pagare. Facciamo degli esempi. Intanto lo studio deve essere adottato di tutti gli ausili tecnologici che permettono un pagamento con assegni, con bonifico, con carta di credito, con POS, con anche monete virtuali. Perché no? Perché anche in questo periodo qua ci sono persone che pagano con Bitcoin. Perché non essere disposti a fare anche questa cosa? Questo è sul piano tecnologico, il supporto. Poi dobbiamo avere anche la capacità di vendere il nostro prodotto che abbiamo deciso in questo piano di trattamento, chiamiamolo prodotto per semplificare, offrendo almeno tre differenti opzioni. Il pagamento rateale, il pagamento anticipato e il pagamento con finanziamento. Sono tre modalità di pagamento che vengono offerte o singolarmente o combinate tra loro e il paziente in modo tale che abbia a disposizione tutte le possibilità. Ricordatevi che quando i piani di trattamento sono piuttosto costosi, e quindi parliamo di cifre importanti che possono superare i 5.000, i 10.000, i 20.000, i 30.000 euro, è compito nostro fare in modo che il paziente possa pagarci. Perché se noi non escogitiamo un sistema che gli sia conveniente, avremo perso il paziente. Se il paziente esce dallo studio dopo che gli è stato presentato il piano di trattamento e non ha subito chiaro che noi comunque una soluzione per lui la troviamo, potrebbe rivolgersi a terzi, o a caccia di preventivi migliori o di opzioni di pagamento migliori. Noi questo dobbiamo prevenirlo, quindi la nostra segretaria, addestratissima e non può essere, quindi un assistente factotum, dovrà essere in grado di presentare i piani di pagamento rateali che vanno fatti in una certa maniera. Per esempio, l'acconto deve essere come minimo del 30-40% dell'importo complessivo. Le quote residue vanno pagate a scadenze concordate, guarda caso coincidenti con precisi appuntamenti che verranno assegnati, e il saldo deve avvenire almeno un mese prima della fine dei lavori. Altrimenti se io consegno il mio ultimo lavoro e il paziente non mi ha effettuato il saldo, ho seminato l'insoluto e dopo l'insoluto sarà complicato riciclarlo e recuperarlo. Poi avremo la seconda modalità di pagamento, il cosiddetto finanziamento. Il cosiddetto finanziamento permette al paziente di diluire, dato un tot numero di mesi, la spesa utilizzando una finanziaria. Noi facciamo in modo che fino a 18 mesi il tasso del paziente sia a TAIC 0, escluso la marca da bolla iniziale di 16 euro, che è comunque a carico del paziente, quindi a TAIC 0, fino a 18 mesi, oppure a fare in maniera tale che il tasso di interesse sia condiviso a metà tra il studio e il paziente per periodi di tempo superiori. Il vantaggio del piano di pagamento con finanziamento è quello che a noi ha un costo, ma ho la certezza di avere tutti i soldi subito prima di cominciare, quindi mi creo una liquidità. La liquidità, come vedremo quando parleremo della componente finanziaria, è determinante per avere tranquillità, cioè si sta bene con i soldi nei conti correnti. La terza e ultima modalità di pagamento è il pagamento anticipato. Alcuni pazienti non amano il ricorrere del finanziamento per non avere esposizioni per problemi di varia natura. Sta di fatto che una opzione che noi possiamo offrire è quella di pagare prima di iniziare le cure con uno sconto che potrebbe essere del 5%. In questo modo qua è vero, noi ci perdiamo il 5% sul piano di cure e su 10.000 euro possono essere 500 euro, non è poco, però noi ci mettiamo tranquilli. Obiezioni come facendo un piano rateale, comunque non dobbiamo ricorrere alle finanziarie, non dobbiamo fare sconti e cose del genere, sono stupidate. Perché ogni volta che noi emettiamo una fattura ci sarà dietro una registrazione contabile che avrà un costo. Quindi tu dovrai tirar fuori una marca da bollo e dovrai tirar fuori almeno un euro per ogni registrazione contabile e una fattura come minimo ne ha 5. Quindi ogni fattura che tu emetti avrai 5 euro di costo più la marca da bollo. Se fai 10 ricevute, quindi hai 12,7 euro di costi solo per aver emesso la fattura, per ogni fattura, ne fai 10 sono 70 euro, gli hai già fatto lo sconto, te lo stai pagando tu però. Quindi attenzione, non è vero, non è vero né contabilmente, senza considerare che tu ogni volta che fai una fattura devi sequestrare una segretaria per un adempimento di tipo amministrativo. Deve scriverla, deve stamparla, deve consegnarla, deve appiccicargli la marca da bollo e se Dio vuole che è anche veloce lo fai in tre minuti. Ma se lei è lenta o è indaffarata o deve interrompersi, ci metterà molto più di tre minuti che tu non paghi poco, paghi tanto. Quei tre minuti ti fanno più comodo a fare qualcosa dove i soldi li guadagni, non dove li spendi. Quindi la componente di pagamento va concordata col paziente. Un documento importantissimo da completare col paziente sarà nel caso dei piani di pagamento rateale, che è il cosiddetto piano dei pagamenti. Il piano dei pagamenti consiste di tutta una serie di rate di valore concordato assieme con scadenze ben precise. E a questo punto scatteranno per la segretaria tutta una serie di protocolli che lei dovrà seguire con accuratezza per sincerarsi che il paziente non si dimentichi mai. Se voi andate a vedere gli insoluti degli studi dentistici, vi garantisco che in alcuni studi raggiungono cifre assurde, perché ho un collega di un grosso studio del veronese che ha accumulato oltre 300 mila euro di insoluti nel giro di un anno. C'è sempre dietro un pagamento rateale. Quando c'è un pagamento rateale le difficoltà che ha la segretaria per tenerlo allineato ai piani di cura sono pazzesche. Un sacco di spreco di tempo. Vi faccio un esempio, un unico esempio di tutta la casistica numerosissima che esiste di queste situazioni. Quando tu assegni un piano di pagamento rateale e concordi una rata mensile, poniamo per esempio che venga pagata il 25 del mese, perché concordi anche una data, e quel giorno non è previsto un appuntamento, non vedrai i soldi. Il paziente non verrà da te per portartene. E quindi se tu fai per esempio un impianto osteointegrato e fai un piano di pagamento rateale, ti troverai nelle condizioni che dal giorno in cui metti giù l'impianto, al momento in cui farai l'ardiografia di controllo a tre mesi, in quei tre mesi non vedrai un soldo, mentre tu le spese le hai sostenute tutte prima. Quindi dovrai farti dare un congruo numero di euro per far fronte a tutti già i costi sostenuti, perché poi per i tre mesi successivi il paziente non verrà da te per pagarti la data. Verrà dopo tre mesi e tra tre mesi pagherai un'altra data e dopo in un mese chiudi tutto. Siamo sicuri che ce la facciamo a non avere insoluti? È altamente probabile che tu semini proprio attraverso una cattiva gestione del piano di pagamenti che è il seme dell'insolvenza.